Ciao a tutti e benvenuti di nuovo sul mio canale Vita di Tutti Giorni. Allora, oggi una bella ripresa sullo zaino, bello pulito, lavato, vuoto, ancora vuoto, pronti dopo, finalmente dopo sette mesi, non so se è il caso di dire finalmente, si vedrà strada facendo. Comunque, incrociamo le dita, che tutto vada per il meglio, quest'anno scolastico che sta per cominciare. Niente, ormai siamo agli sgoccioli, quindi come ho detto, questo qui ormai finirà il quinto anno di elementari, mio figlio. Quindi lo finirà con questo zaino che era già stato lavato nel periodo di quarantena e quindi pronto per essere usato. Adesso vi faccio vedere, subito dopo questo pezzo, ci sarà un mini 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 video di come si presentava la mensola della scuola, io la chiamo così, prima di metterla a posto e come si presenta dopo e in più il cassetto della scuola. Eccomi qui adesso con la mensola messa a posto, sto usando la luce artificiale del telefonino, perché altrimenti è molto buia quest'ora, questa parte della cameretta. Comunque, qui come potete vedere ho già messo tutti i quaderni e i raccoglitori che serviranno quest'anno con ognuno le sue copertine colorate, uno per ogni materia. E qui sfrutterà come al solito sempre lo stesso astuccio diviso in tre, il suo quadernino, degli appunti. Ha voluto questo nuovo diario di nuovo quest'anno di Scottex e anche l'anno scorso ce l'aveva suo. Poi vabbè qui abbiamo il vocabolario e andiamo dall'altra parte. Allora, e vi faccio vedere, ecco qui. Invece qui ho messo in poche parole tutti i libri, partendo dal basso, di quarta, perché ci hanno detto che probabilmente li useranno anche quest'anno per un ripasso, per comunque riprendere le materie che avevano lasciato indietro e sono state, diciamo, studiate tra virgolette un po' così l'anno scorso. Poi abbiamo il libro di storia, che di solito ce lo fa la maestra e quindi noi l'abbiamo soltanto rilegato. Poi abbiamo, vabbè, i libri che fanno quarta e quinta e questo qui che era quello delle vacanze. Allora, io concludo il video e questo era soltanto un mini video appunto, soltanto per farvi vedere come abbiamo organizzato noi le cose per la scuola. E se ci sono dei suggerimenti oppure avete qualche idea o volete farmi soltanto sapere, insomma, come sta andando a voi questa preparazione delle cose da scuola, ben volentieri scrivetemelo sotto nei commenti. Adesso vi faccio vedere il cassetto. Allora, ecco qui il cassetto, questo è il cassetto della scuola messo a posto, anche se il mio figlio forse ci ha già messo anche le mani perché vedo tutto rovesciato. Vabbè, in ogni caso, allora qui ho messo, vabbè, cartellina vuota, copertine di ricambio, notes, quaderni nuovi da sostituire quando finiscono gli altri, qui abbiamo tutti gli evidenziatori, le ricariche per le penne cancellabili che ancora le usano, vabbè, penne varie, matite, tutta la roba di cancelleria, colla che ne usano come se se la mangiassero, non lo so. Allora ne abbiamo sempre delle scorte, temperini, addirittura tre temperini diversi. Questa è la scatola che poi, vedete, avevo tagliato già dalla prima elementare, l'hanno chiesta, da inserire sotto il banco, con tutte le cose, anche qui una colla grossa, pennarelloni, i gognometri, tutte le cose di, diciamo, se finisse qualcosa, almeno qui, hanno una scorta. E poi qui inseriamo di solito anche i fazzolettini di carta, le cose appunto che usano in classe. Qui abbiamo le scorte di pennarelloni, di matite colorate, delle regole, delle lezioni, adesivi, il flauto con la sua custodia, ma quest'anno non faranno musica, quindi anche lì soldi ben spesi, mi raccomando. Ah, mamma mia, come andrà quest'anno non lo so veramente. Ho già le mani nei capelli, comunque, lasciamo perdere. E qui sotto ci sono tutte le, che io l'ho messa in una cartellina, scusate, ve lo volevo far vedere, sto combinando un gran disastro anch'io, tutte le pagelle degli altri anni, glielo tenute qui, per ricordo glielo stampate, glielo ho messe tutte in una cartellina. E poi qui sotto anche, che non vi faccio vedere perché ci sono anche gli altri bambini, comunque tutte le foto di classe, di tutti gli anni, dalla prima alla quarta. L'anno scorso hanno fatto una cosa carina, che siccome erano in lockdown, ognuno di noi ha mandato una foto del proprio figlio, e il fotografo l'ha messa tutti insieme, facendo un collage. È venuto molto carino, e insomma, uno si adegua poi ai tempi che uno percorre, no? E niente, fin qui, tutto quello che ho preparato io per la scuola, non ho fatto grandi cose, perché veramente non me la sento, di comprare l'impossibile. e quindi vedremo di volta in volta cosa ci diranno e cosa ci diranno di portare e di fare. Al prossimo video e sono felice di essere stata con voi anche oggi. Grazie, ciao! Ciao!